Partite con la registrazione. Un metodo tecnico affidato a Ben Attenberg. Si attardano i preparativi. Ci siamo. Ugo per la medal. Eccoci, eccoci. Partiti, partiti. Attenzione, c'è, c'è. Lascia sfilare, lascia sfilare. La gara è tattica, è tattica, è tatticissima. M12 qua. No, è piccolino. È un ometto fruscello, leggero. La gara si incanala nel tatticismo più estremo. Mi sembra il d'urso dei migliori tempi. Ecco, la gara è veramente lenta e questo gioca a favore di tutti, anche degli outsider. Siamo. Un passaggio, signori. 56. È il 300. Ugo sta davanti e ce ne ha? 56. Attenzione. Mi prendo i quattro, faccio quattro, otto, mille e arrivo. Attenzione, i quattrocento. Siamo su uno e... 16 adesso. Uno, quindici e cinque. Finiscono in cinque minuti e tutti diventano pericolosi. Tutti sono pericolosi. Un piccolino. 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 Troppo lento, però stanca le gambe prima. Stefano Tilli, puoi farmi un commento a freddo di questa prima partenza? No, ma no. Non sta a penetrare il metrocupo di aria. Preferisco Roma. Oggi la giornata è buona, c'è poco vento. La tattica è quasi giusta, però potrebbe stare un pochettino più coperto. Però lo vediamo. È sicuro. Lui oggi è sicuro. Lui è lì. Si fa grande tra gli altri. Guardatelo, guardatelo. La corsa sciolta. Adesso, secondo me, farà passare qualcuno. Ragazzi, il passaggio è il settecento. Al settecento siamo... A due quindici. Aiuto! È pericoloso, così è pericoloso. È pericoloso per tutti. Per vedere uno strappetto. Eh sì. Andiamo a togliere quelli che... Agli ottocento passano in due trenta... Adesso. Due trenta due. Due trenta quattro. Due... Due trenta quattro e sessanta e due. 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 Attenzione, piccolo strappo e Ugo si è fatto lo spagnolo. Lo spagnolo, lo spagnolo. Ma è lì, è sul suo ritmo. Attenzione. Ugo c'è. Sono in cinque, dai. Sono in cinque, buono, buono. In cinque per una medaglia. Sei. Attenzione, attenzione. Lo vedi? Lo vedi? Adesso sta un po' rimando con le braccia. Però non è ancora stanco, eh. Tre, sette, cinque. Diggli di aspettare. Diggli di aspettare quando è qua. Che lui parte. Diggli di aspettare. Ah no, amico, ma è dietro. Dai Ugo! Ugo! Bella corda, Ugo! Attenzione. Attenzione, Ughetto. Via Ugo! Se la vuole giocare con McCluffi la medaglia. Ha battezzato la medaglia. Però va bene, va bene. Posizione eccellente. Guardalo. Via, via Ughino. Grande Ugo! Bravo! Attacca! Mi! L'ha attaccato, l'ha attaccato. Mamma mia! Guardalo! Cambio deciso. Dove sono gli altri? Eh, poco avanti, eh. 5 metri, eh. Però sta uscendo ancora bene. Via Ugo! Grande Ugo! Grandissimo finale. Eh, non ne ha più, non ne ha più. È una grande medaglia. Grande medaglia. Grande medaglia. Grandissima medaglia. Grandissimo. Grande Ugo! Grande Ugo! Grande Ugo! Grande Ugo! Ragazzi, siamo con la fresca medaglia di bronzo, eh. Categoria M40 italiano. Ugo Piccioli. Cappelli. Bergamasco. Ha fatto una grandissima gara. Ha vissuto. Ho visto la gara. Ho vissuto. Partiti. Molto tranquillo. La pazienza. Ha controllato. Gli specialisti del 1.500. Loro e effettivamente l'avevano. L'avevano il 1.500. Ho fatto il massimo. Ha spunto tutto sull'800. Veramente in sfida niente. Ha vincolato bene il 400. Stasi giocata con l'altro italiano. Veramente. Soddisfazione. 4.23 più meno tempo. I due allenamenti. I due allenamenti. I due allenamenti. I due allenamenti hanno portato inizio. No dai. Più voto. Complimenti ancora. Grande. Grandissimo. E soprattutto sei punti. Bravo. Bravo. Ho fatto un volatone. Bravo. Il 500. No ma il 500 ha già iniziato a cambiare. Grazie. Bravo. Ugo. 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 Grande Ugo.